La vivibilità a Taranto, questa illustra e sconosciuta, questi sono i risultati dell'amministrazione Melucci, l'invivibilità di questa città. Per questo mi candido sindaco, anche per questo, per dare decoro alla città, per ripristinare la vivibilità urbana. Mi candido, come sapete, con Taranto senza Ilva, come primo cittadino appunto, in modo assolutamente trasversale ai partiti, al centro-destra, al centro-sinistra, al Movimento 5 Stelle, forze politiche che hanno preso solo per i fondelli la città di Taranto. Ci troviamo praticamente in via Mignogna, di fronte all'entrata della Villa Peripato. E guardate questo scempio. Da due mesi è stata segnalata questa voragine, questo buco, con uno sprofondamento pauroso, vedete, del manto stradale. Mi sono munito appunto di un piccolo bastone. Guardate qui, di un attrezzo, guardate qui proprio c'è un buco, una voragine, entra ed esce di tutto. Ma non è solo un fatto estetico, magari fosse un fatto estetico soltanto. Stiamo parlando di un pericolo gravissimo. Qui una persona cammina e cade. Qui un anziano ci rimane secco, ma non solo un anziano. Guardate, il problema è strutturale. Proprio c'è un vuoto qui sotto, un vuoto. Ci sarà un mezzo cratere, non lo so cosa ci può essere. Però sta di fatto che da due mesi è stato sollevato il problema, ma non c'è stato nessun intervento. Il silenzio più assoluto. Caro Melucci, tu dici di aver seminato la rinascita. Stiamo seminando la rinascita, recitano i tuoi cartelli. Ma quale rinascita se non sei in grado di dare risposte a un minimo di vivibilità urbana? Due mesi, da due mesi viene sollevato il problema. Tu e la tua amministrazione, i lavori pubblici, cosa avete fatto? Dove stavate? Quale risultato avete prodotto? Le favole? Il taglio dei nastri? Le passerelle? La città è sprofondata, sta sprofondando, è caduta. La tua amministrazione è sprofondata, come sprofonda il manto stradale. Per questo mi candido sindaco, per dare un'immagine diversa di Taranto, un'immagine e una sostanza diversa di Taranto. Non chiediamo chissà quali opere faraoniche, non prometto mari e monti, sarei un'ipocrita, ma viva Dio, almeno entriamo nel cuore dei problemi, diamo risposte al cittadino. Il cittadino, caro Melucci, paga le tasse e vuole servizi. Qui se cade una persona, lo ripeto, ci rimane secca. Se cade un anziano, si spezza un femore. Ed è giusto poi che si chiedano i danni all'amministrazione comunale di Taranto. Si chiedono i danni all'amministrazione e poi alla fine, quando l'amministrazione soccombe in giudizio, siamo noi cittadini a dover pagare. Vi siete tanto premurati a mettere la cartellonistica, le insegne varie, la segnaletica relativa ai limiti di velocità, 30 all'ora, e poi non vedevate qui a fianco questo scempio? Quanta gente è caduta e rischia di cadere, caro Melucci. L'alternativa c'è, lo ripeto, mi candido sindaco a Taranto con Taranto senza ilba. C'è la mia storia, le mie battaglie per l'ambiente, ma tante battaglie fatte per la vivibilità, per il decoro urbano. Basta andare sul mio sito www.luigiabatecommunication.com e c'è tutta la mia storia. Per questo io chiedo la fiducia dei cittadini, per affrontare la questione ambientale innanzitutto, per dare risposte concrete sulla vivibilità urbana.